assolutamente anche perché sono passati appena 5 minuti e 40 del primo periodo qui oh che palla, passaggio, quasi cercato un elioff qui rischia di perdere palla, c'è questa esperienza, esperienza indievole qui in recupero, Young, Gentile, la bomba centrale segna la tripla Gentile, vediamo oh vantaggio segna e subisce palla intanto una perla di Nando Gentile